Ciao ragazzi, siamo in attuale con la parte numero 19 del Let's Play di Life is Strange. Nella parte scorsa abbiamo scoperto un po' come è la vita della famiglia Price in questa nuova realtà. E dovevamo portare a Chloe questo iniettore di morfina. Ce l'ha chiesto. Perché tipo li faceva male la testa. Oh, questi? Oh, questi cassetti noi li abbiamo perduti comunque. Ha bisogno di usare un po' di lotion per mantenere il sangue circolato. E se invece dissi quella rossa? Oh. 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 Ehm, questo? Ah, altri cassetti da aprire. Wow, signor. Chloe era una studenta straight A. Minchia. Ah, in tutto? Wow, signor. Chloe era una studenta straight A. E' sicuro di aver già aperto quello sopra? E' ancora una famiglia felice. Qui c'è invece un'immagine. Sarà la solita immagine di famiglia. Foto. Aaaah. Chloe ha una nuova macchina che si è entrata nella foto. Che bello. E' sera un'am縝o. Anche. L'abbiamo è stato un po' di me è stato un po' di me in realtà cercano di dare un tempo e tu lo riusciti se mio papà mi avviò un po' di me wow, un'ottima foto noi stiamo in una pire dovremmo avercibito la Arcadia quando avevamo la possibilità è ancora tempo per te chiamerò il mio vascello Price è la stessa foto in cui sei entrata quando... non... sai che io sono solo la possibilità mentre i miei amici e anche questo non è quello che voglio chiamerò cosa stai dicendo? stai dicendo che stai con te ancora è stato molto speciale solo volevo sentire quando eravamo quando eravamo quando eravamo quando eravamo in Arcadia Bay e tutto era possibile e tu mi ha fatto sentire quella oggi voglio questo momento con te essere la mia ultima memoria te lo capisci lo capisci lo capisci che cosa farei? allora rifiutare no o accetto o non lo so vorrei che allora da un lato i genitori di Chloe non me lo permetterebbero mai di farlo dall'altro però non voglio che tipo loro entrano e scoprono che boom è morta così voglio che anche loro assistano al momento però loro non accetterebbero mai di farlo quindi però chloe io solo dormire dormire di noi qui sempre se posso andare indietro comunque vedo tutte le opzioni che grazie molto sono orgogliata di te seguirei te non esqueci mai non ti amo Max vi a a Tutte le volte che ti abbiamo salvato Ok Veloce, veloce dai Voglio vedere tutte le opzioni prima Chloe, non sapevo se potrei fare questo Ho avuto un amico che chiede a cercare tutto E ho fatto tutto che potrei per cercare la vita Ma come potrei essere responsabile per cercare la vostra? Cioè, deve avere un altro modo Max, tu sei là per il amico, non importa cosa E ora mi chiede a te aiutare a me aiutare Voglio aiutare a te aiutare, Chloe, ma... Credo che mia aiutare è scurta Almeno tu hai una scuola Quando vuoi fare una decisione, puoi solo fare Guarda me Ero alla scuola di tutti Per una volta, voglio fare una scuola La cosa più importante della mia vita Per favore, aiutami, Max Vabbè Comunque, dai, scegliamo dei due Vediamo rifiuta, poi torno indietro e che caccia Chloe Non posso Mi riuscirà a vedere te in ogni pezzo Ma non ho nessun modo per fare questo Sono un adulto Ti ho dato il diritto Però, Joyce E William Mi hanno già detto i miei amici Ma non hanno chiesto i miei amici Ma non non vengono i miei amici Tu avessi, certo? Non posso Tentare te uccidere con una scuola Max, sto morando Od mio maldito, non di mia scuola Questo accelererà il processo Io mi piacere a andare a andare a andare da un rio E io voglio un amico Mi amici Mi aiutare aiutare Mi aiutare a te aiutare Ma non è così Tu devi per me credere, Chloe Perché, Max? Tu mi aiutare a me Come tutti altri Perché non vengono Non vengono Ti ho chiesto Tu avessi qui, da qui Non vengono Quindi andate Non vengono Chloe Non vengono Non vengono Ti vengono Si, col cazzo che ho accettato questa Soluzione No, 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 no Ehm Credo che accetterò la Prima scelta che ho fatto E ora che ce ne andiamo da questo Questa realtà è distorta Ehm Com'è che era così? Così di genere Ehm Ficca, si è volito Oh Sì Ehm Al giorno Eh Ehm Già Sì Già Ehm Bi Ehm Già Chi Gio Ehm Scusate Lui trova le chiavi. Vuoi arrivare a tanto? E' una decisione definitiva. E' una decisione definitiva. E' una decisione definitiva. E' una decisione definitiva. Max, sei stato così strano. Come mai vedrai noi ancora. Chloe... Mi sento davvero scusa. Ho cercato di fare cose diverse per te. Ho cercato. Mi sento davvero scusa. Mi sento davvero scusa. Non lo so che stai parlando, ma... Vieni, hai fatto cose diverse. Come, tutta la mia vita. Sei il mio amico migliore. Ho tu e una grande famiglia. Cosa per essere scusa? Ci siamo migliore amici per sempre. E quando cresciamo, stiamo prendendo il mondo. Scusate. Cosa succede. Io voglio essere forte. Anche se ti senti che non ero per te. Perché non ti abbandonare, Chloe. Ma... Io sempre avrò la tua torta. Sempre. Scusate. Mi credentissima con quella faccia di Chloe in questa foto. D'oddio. Se l'ha già fatto il ciuffetto blu. Non l'avevo visto. Uh. Questa non l'avevamo vista. Ovviamente. Rachel. Oddio. Questa non è la mia vita. Ma... ... Esatto. Ha! Ha! Tu vissi a casa di Chloe? Sì, in casa di Chloe. Buongiorno, sono qui. Tu sei molto pesante, ma grazie a tutti gli scicchi. Adesso ci siamo ancora che i giochi, ci siamo ancora inizia e arrivati. Max, ci siamo iniziano? Ho spero che ti succedi a fare il tempo nella dormite. Non più, solo inizia. Ma davvero al mondo, Max. andiamo a guardare la big board e vediamo tutti i nostri pezzi nel puzzle è così vicino, ma è così vicino dobbiamo fare tre cose principali certo che cose? scoprire il collegamento e far raccettare si vabbè bene, bene, è il tuo potere che non puoi prendere nessun soldato o... Blackwell sarebbe in grande probleme non mi lasci lasciare il pieno per pagare il franco e sono piaciuto, dobbiamo essere meglio da quello ancora ancora ci sono i miei nomi ci sono i miei nomi e vediamo dove ci sta o a chi e becchiatevi di stucco non sarà un campionato dopo aver riuscito a riuscire Vado di nuovo per la casa, vado direttamente all'altra. Ma quindi questo è il giorno dopo rispetto a... ui. Buongiorno. Hai vinto questa battaglia, Max. Hai bruciato la mia famiglia. Ti saluto. David. Non ho cercato di bruciarti. Sempre. Ma non mi lascio nessuno scusare Chloe. È troppo tardi, non è? Hai proprio... Devi essere sbagliato con lì. Non vantaggiare fuori dalla scuola. Sembra che David ha finito i lavori sui auto. Magari ci sono alcune nuove ricette. È quasi contento. Tutti vogliono andare al drive-in. Questo qui l'ho già letto. Ok. Grazie per avermi aiutato nel esperimento, dottor Max Stein. Ho ringraziato assolutamente. Ho preso A più grazie a te. Si, hai sentito bene. A più. Fantastico, ma non devi ringraziarmi. Sono ufficialmente un genio, quindi non lo farò. Il conto, per favore. Io, io, Max. La tua amica Chloe mi ha inviato un sms per dimmi che l'hai rispinta. È vero? Davvero Chloe ti ha mandato un sms? Di certo non avevo il suo numero. Oddio. Non voglio metterti in imbarazzo. Troppo tardi. Sembra una grande. Una grande idiota. Come me? No, tu sei diverso. In senso buono. Quindi ci stai pescimiaci? Nessun umano potrà fermarmi. Fate le scimmie, non gli umani. Vedremo. Lo spero. Ora devo tornare alla realtà. Che palle. Infatti, ti chiamo più tardi. Ehm... Curioso che noi gli abbiamo fatto avere un A più quando se non l'avessimo aiutato in nessuno dei due casi avrebbe avuto uno B meno. Ma tutti questi messaggi, scusate. Allora, mamma. Cosa sta succedendo al metro là giù? Stanno facendo dei test militari o qualcosa di simile. Sei proprio nell'occhio del ciclone. Ehm... Quasi. Già, ma persino ho fatto morire Elisa. Mamma, mi spiace tesoro. Comprone un'altra. Una pianta bastava. Torno ai miei libri. Ci sentiamo presto. Baci, Max. Sai che... Vi giuro che io sono ancora rimasto malissimo per aver fatto morire la piantina. Ehm... Ehm... Maxi, Max. Sono impegnato a fumare. Come butta? Come dice Frank Bowers? Droga. Tutto qui? Chiedi a Nathan. Penso che lo conosco. Ok? Ci penso io. Grazie Justin. Per cosa? Juliet. Ah... Sì, l'amica di Dana. Spero tu stia bene, nonostante tutto. So che sei impegnata, ma chiami quando vuoi. E' Juliet, sei occupata? Non ho tempo per essere occupata. What? Non mi scrivi mai. Che succede? Oltre a tutto... Mi chiedo se avessi messo a parlare di un tizio di nome Frank che vive in un camper in Gioia Park at the Bay. Vuoi dire quel perdente giù al fiume? Ho sentito che si fa di metanfetamina. Tutto qui. Perché? Stai negando senza il mio aiuto? No, ero solo curiosa. Ci sentiamo presto. Grazie. Ok, ma non puoi nascondere niente a Juliet Watson. Lasso del giornalismo. Ehi. Papà. Ok, questo l'ho già letto. Già letto, già letto. E tesoro, ho ricevuto uno strano sms che dice che la mia figlia ficcanaso farà meglio smettere di farsi gli affari degli altri e guardarsi le spalle. E' uno scherzo? E' un numero privato? Oh, ma mi spiace tantissimo. Un idiota in mia classe ha pensato che sia bezzato divertente. Non lo è. Non mi piace che degli strani abbiano il mio numero, ok? Nemmeno io, scusa. So solo facendo il papà. So che è stata una settimana difficile per te. E' quasi finita. Ci vediamo più tardi. Ti voglio bene. Chloe. Allora. Intimoticon. Ah, sì, questo qui è addirittura con un filtro capitolo 2. Lo state muo il culo subito. Ehi bella, sono una merda. Mi spiace di essere in mia impresa con te oggi, di aver detto di essere inserita la mia miglia amica. Ti capisco Chloe, stiamo passando un periodo difficile come tutti noi. Io ho assolutamente bisogno di bere, c'è una gola secchissima. Allora. Facciamo in questa parte. Facciamo in questa parte. Il portato non ce l'ha più, ovviamente. Un'email. Mi prometto che mi aiuterò la professoressa Grant la prossima volta. Ah. Se c'è uno. Camerate di surveillance a Pan Estates? David deve lavorare anche per i Prescott. Ah, basta. Oh, mi fa triste. E' stato incredibile vedere William ancora. C'è, quando ho letto William Staff per un attimo ho pensato a David e ho detto ma scusa non si ne è appena andata. Oh, gira. David è anche pagato le cose di bambino. Sono due. Oltre a Chloe ha distrutto un'altra scuola o... David è fuori lì armato. Penso alla seconda, eh. Onestimente. Una nota. What the hell did David do for Nathan? And what did he do? Dio. Come ho detto, Sean Prescott. Allora, c'è... Una relazione fra... David e Nathan e questo già lo sapevamo. In teoria... David dovrebbe tipo dare la caccia... a Nathan. Dare la caccia e tendo... spiarlo, stalkerarlo. Perché lui ha detto tipo una volta che... stava... indagando tutti quelli... tutti i membri del Vortex Club. Oh, questo è un gioco serio sul gioco. Ehi, David. Cosa stai guardando? Oh, che memoria. Cosa stai guardando? Che memoria. Ecco, ma al solito sono diversi giorni che non gioco. Oh. Maps, note, coordinate... foto di Kate, Nathan... Oh, sì. Lei sa qualcosa. Kate. Sì. Ma cos'è? Cos'è? Le coordinate. aia. Ovviamente lui fa una foto, non viene ad aiutarci. Alla marca. Ma questo qui che... veicolo è? Ma... Pay up. Score. Voi tornare a Chloe ora. Oh... Guarda i bambini di blu jay in il nest. Adesso si fa tipo cadere qualcosa. Voglio fare... Voglio... Vedere una cosa. Allora... E adesso, vabbè... Ho fatto la foto, no? Ma se torno indietro... la foto rimane. Sì, rimane. Allora non ho bisogno di spostarla. Questo blu jay è buono per la protezione di nest, ma... BAH! Adesso la foto tu ce l'hai, quindi non c'è neanche bisogno di... Che poi onestamente... Spostare una trave... Per un nanosecondo può ovviamente influenzare così tanto la... di... Life is Strange. Se vi è piaciuto il catapulto, ci vediamo la prrrr... Aspetta, è la 18. Cos'era la 19? Vabbè. Comunque, teniamo qui la parte X dell'esplay di... Life is Strange. Se vi è piaciuto il catapulto, ci vediamo la prrrr... Al prossimo c'è ragazzi.